Gli uomini della squadra mobile della questura di Lucca hanno individuato una fumeria di shabot gestita da un filippino di 35 anni che è stato arrestato e da un complice anch'esso filippino denunciato. Lo shabot, detto anche ice, è una droga sintetica molto usata in oriente e questo è uno dei primi sequestri operati in Toscana. Composta da elementi sintetici, la polvere viene riscaldata e fumi inalati, producendo la sensazione di defaticamento e gioia. Gli effetti sull'organismo sono però devastanti, causa infatti gravi lesioni a denti e organi interni, portando l'assuntore abituale alla morte nel giro di pochi anni. Tra gli effetti collaterali dell'uso di questa droga c'è anche la normale aggressività da parte di chi ne fa uso e proprio la segnalazione di questo genere di atteggiamenti da parte delle forze di polizia presenti sul territorio hanno fatto scattare le indagini che hanno portato allo smantellamento della fumeria posta in un appartamento di Sant'Anna. Durante 20 giorni di appostamenti gli agenti hanno notato numerosi cittadini orientali recarsi presso l'abitazione. Una volta entrato in azione i poliziotti hanno dovuto sfondare una porta interna dove si erano rinchiusi i due uomini più un terzo, un consumatore venuto da fuori regione e sequestrato circa 30 dosi di shabot. L'enorme pericolosità di questo composto chimico sta anche nell'immediata dipendenza che si viene a creare una volta provato. È un fenomeno per ora chiuso all'interno della comunità asiatica, infatti nell'attenzionare questo appartamento abbiamo trovato solo dei filipini, dei soggetti filipini che si recavano giornalmente presso questo soggetto che poi abbiamo arrestato.